aia ha fatto la figura fai Franci Lori ma Lori guarda no un attimo un attimo devi aspettare ma tu la torre non la puoi fare Lori ma no dai fagli la torre che ha fretta Franci come si butta giù? vediamo vediamo forse un po' lontana però Franci prova la vicina bravo hai visto che ha lavorato ha smesso? dai rifacciamo no un attimo mi piace no Lorenzo devi lasciarmi fare il torre ehi dov'è Massimo Lori? dov'è? dov'è? è dietro di te ehi guarda allora guarda eh ti faccio la tua ordina no aspetta nooo devi aspettare Lorenzo ah no 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 nooo nooo Lorenzo no fai piano piano fai piano piano fai piano piano fai piano piano fai vedere come ha arrabbiato? lori lori ehi dove sei? ciao 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 Lorenzo ciao ciao Lorenzo ciao 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 dove devi andare? ciao ciao vieni 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 vieni